Buongiorno, sono Franco Palleni, Canon Italia, oggi siamo a ISE 2024. Vi presentiamo il nuovo controller RC-SK5, un controller sviluppato insieme a Scaroi per Canon che controlla tutte le nostre camere con il protocollo XC, quindi le camere PTZ ma anche le camere cinema e i controller professionali e con una licenza addizionale tutte le camere di cui Scaroi è in grado di controllare. In quest'area stiamo vedendo una soluzione multicam studio dove una serie di tecnologie insieme alle nostre camere ci aiutano a creare uno studio virtuale, uno studio di produzione per produzioni videocorporate. Nell'area che vedete alle mie spalle, dove c'è tanta gente, abbiamo invece il wall con tutte le nostre camere PTZ e quindi con tutti i nostri prodotti pan-tilt-zoom, dalla più piccola CR-NS100 alla più grande CR-NS700. Tutte le camere, come sapete, condividono molte funzioni e man mano che saliamo abbiamo funzionalità più specifiche e più professionali. Ci sono anche una piccolare dedicata alle soluzioni software, quindi l'autotracking e il multicam management app che è un'applicazione che permette di controllare fino a 200 camere per quanto riguarda le modalità di installazione. Se ci spostiamo invece da quest'altra zona del nostro stand, abbiamo delle soluzioni Virtual XR Studio, dove XR sta per extended reality. Le nostre tecnologie che lavorano in sinergia con soluzioni software per creare studi virtuali. Vedete il collegaron che sta facendo una dimostrazione di un sistema basato sull'headwall che lavora in congiunzione con un sistema con green screen. Le soluzioni sono molto facili da configurare e molto efficaci per quanto riguarda poi la comunicazione di studi virtuali. Questa stessa soluzione è divisa in due parti perché permette di avere due interlocutori che parlano contemporaneamente da due location separate e quindi creare un'interazione più efficace anche fra diversi punti aziendali. In questa zona invece dove vedete i device, i visori, abbiamo delle soluzioni per la virtual reality in education. Una serie di contenuti che sono stati preparati da Canon Italia in collaborazione con Canon Medical e sono dei contenuti che aiutano gli studenti.